Ciao Zee! Ciao Franci! Che partita venuta? E' un video! E' bellissima qui! Voglio filmare questi bellissimi mercatini che sono molto particolari hanno le stoffe ricamate a mano i rosari ricamati a mano e il paesaggio da steppa e il deseresso con le buche per terra E' una racca! Ciao!